Si è insediato il nuovo direttore del Museo Archeologico di Caltanissetta, Chris Nucera. Questo momento è importante, come ha trovato questa struttura? La struttura si vede da sola, si commenta da sola, perché devo dire onestamente che è uno dei più bei musei che abbiamo in Sicilia. Sia per la ricchezza che in qualche modo tocca tutti i siti che vanno da Sabucina, Vassallaggi, Polizello, Dissueri, quindi con ritrovamenti e reperti che vanno dal XV secolo a.C. per poi arrivare a quelli più recenti che sono del IV-V secolo. E quindi il Museo tra l'altro ricalca lo schema di quello del Paolo Orsi, anche se è più piccolo, con questa forma esagonale, ottagonale. L'iniziativa che avete immaginato per rilanciare questa struttura? Questa è una delle scommesse che, diciamo, sia io come responsabile e poi anche tutto l'assessorato bene culturale sta appuntando, che è quello di immaginare un museo che sia dinamico, che non sia statico e che punta praticamente sia sulla fruizione e sia sulla valorizzazione del museo in sé per sé. Quindi stiamo cercando anche di aprire con le varie istituzioni didattiche, quindi con le varie associazioni, Sicilia Antica, in modo tale che ci possa essere anche dal punto di vista della multimedialità un trasporto di tutti i beni che abbiamo anche a livello virtuale. E anche perché no, uno scampio, diciamo, dal punto di vista culturale con organizzazione di mostre facendo, diciamo, importare pezzi importanti che per esempio abbiamo anche a Siracusa che sono del sito di Poliziello. Questo tempietto è uno dei pezzi pregiati di questo museo? Sì, sicuramente è uno dei più importanti pezzi, ma non solo perché abbiamo altri, come dicevo, dei reperti importantissimi. Questo è un... si attesta a degli scavi effettuati a Sabucina è un... nell'area sacra, appunto, di Sabucina e risale al 480 avanti Cristo e che era praticamente un dono che veniva fatto, quindi, agli dei e, come vediamo, è un tempietto a capanna con il prono antistante e, quindi, era per la divinità sacra e, quindi, venivano dati questi doni in... come, appunto, sacrificio e, quindi, come simpolo dell'area sacra. Per gli utenti, per le famiglie, quando è possibile visitare il Museo di Centro Spirito? Si può visitare tutti i giorni. Qua è H24, diciamo, aperto perché i custodi fanno anche, diciamo, servizio notturno però, dico, per le visite c'è tutto il giorno tra l'altro i prezzi sono modici perché addirittura per i residenti è un euro quindi un caffè mentre, praticamente, per l'attività didattica quindi per tutti gli studenti è gratuita compreso gli universitari e, niente, poi, per il turista che, normalmente, insomma, vuole conoscere sono due euro e cinquanta mentre, praticamente, per l'età che va anche per le persone da 65 anni in poi è, quindi, gratuita per cui, insomma, l'unica cosa che un pochettino penalizza, devo dire, il museo è che siamo in un'area un poco periferica rispetto alla città di Caltanissetta e, quindi, diciamo, la scommessa è quella di cercare di valorizzarlo e, quindi, cercare di fare alzare quindi la fruibilità di questo museo che, come tutti i musei, diciamo c'è una percentuale, insomma, non tanta alta